Terminate le giornate di screening sulla popolazione scolastica, sono in totale 93.328 i test antigenici eseguiti sul territorio regionale nel weekend. I positivi rilevati sono stati 2.356 pari al 2,5%. L'adesione invece è stata del 60% rispetto ad una popolazione target pari a 154.311 persone. Un'iniziativa che, come dichiarato dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha consentito una ripresa delle elezioni in sicurezza dopo le vacanze di Natale. Imponente la macchina organizzativa messa in campo su cui i sindaci sono stati parte integrante. Una risposta del territorio organizzata dai sindaci, dai comuni, in collaborazione con le ASL che ha dato un riscontro comunque indicativo, 2,5% la quota percentuale dei positivi all'interno del territorio regionale rispetto a coloro che hanno partecipato ed è un po' una media che si è confermata anche nella nostra città e nel nostro territorio. Uno screening che ci ha consentito di intercettare un numero importante comunque di ragazzi positivi e quindi di evitare situazioni di rischio. Dobbiamo andare assolutamente in questa direzione, non ragionare tanto sulla percentuale relativamente bassa, ma dobbiamo invece preoccuparci del fatto che c'è una quota importante di asintomatici positivi, ecco perché dobbiamo alzare la soglia di attenzione e soprattutto mettere in campo un sistema di screening, di monitoraggio con i test rapidi che non sia solo ed esclusivamente una fotografia periodica della situazione di massa, ma che sia un po' sullo schema, anche che viene applicato allo sport e in particolare al calcio, costantemente un'attività di monitoraggio per gli ambienti di comunità e che intervenga chirurgicamente laddove c'è la necessità. Solo così possiamo garantire non solo la ripartenza delle scuole, che oggi vive il momento di riavvio in presenza, ma soprattutto la continuità in sicurezza e in presenza. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci. Sul fronte delle scuole dell'infanzia lei qualche giorno fa ha annunciato la volontà di portare avanti anche questa campagna. Sì, la Regione, il sistema sanitario regionale, insomma con i tamponi che ha messo a disposizione, anche per la tipologia di tamponi ha escluso le scuole dell'infanzia. Comune di Teramo stiamo organizzando al di fuori dello screening che si è chiuso nella giornata di ieri perché riteniamo che sia assolutamente necessario monitorare questa fetta così sensibile della popolazione scolastica più piccola.